Buongiorno, la paura fa novanta, l'amore cento. Sì, l'amore, ma quello vero. Si è celebrata la giornata mondiale del libro, una bella occasione per richiamare il valore di questi amici silenziosi che sono i nostri libri. Stanno lì, immobili, talvolta impolverati e dimenticati, in attesa che qualcuno si ricordi di loro. Personalmente confesso di non potere fare a meno dei libri, di non riuscire a passare un giorno senza averne avvicinato almeno uno. In fondo penso che un uomo muoia quando smette di avere voglia di conoscere e imparare. C'è un libro, il libro dei libri, il più letto al mondo, il più tradotto. Pensate in circa 3000 lingue che non può mancare. È la Sacra Bibbia. Bibbia in greco significa libri, dunque un libro di libri, 73 in tutto, 46 fanno l'Antico e 27 il Nuovo Testamento. Sacra, perché questi libri sono sacri? Lo spiega San Paolo scrivendo al giovane Timoteo. Tutta la Bibbia è ispirata da Dio, dunque libri scritti da mano d'uomo ma ispirati dallo Spirito di Dio. Sull'aiuto che possiamo ricevere dallo studio e dalla meditazione della Bibbia, sempre San Paolo afferma, la scrittura è utile per insegnare, convincere, correggere, educare. Insomma, dentro c'è tutto quello che ci serve. Come farne a meno se vogliamo indovinare la vita terrena e non fallire la vita eterna? Nella Bibbia è scritto il nostro destino. Chi apre la Bibbia e in essa si immerge non sentirà profumo di carta, ma afflato d'amore, amore divino 100%.